Musica Buonasera ai telespettatori di Rossini TV, buonasera a Cristian Della Chiara, direttore artistico del Festival dei GAD. Buonasera e grazie dell'invito, buonasera a tutti. Siamo in questa seconda puntata di avvicinamento, in questa seconda tappa di avvicinamento verso il Festival, è tempo di cominciare a parlare un po' di date. Sì, il Festival come ricordavi tu è prossimo all'inizio, quest'anno ci avvicineremo non solo con questi appuntamenti a Rossini TV ma anche con qualche appuntamento del Festival che poi ci avvicinerà alla settimana di spettacoli in concorso. Quest'anno appunto il Festival ha questa formula diversa perché gli spettacoli in concorso saranno tutti i giorni, quindi punteremo ancora di più sulla formula Festival. Le compagnie che verranno ospiti della nostra città si fermeranno qualche giorno in più per vedere quindi gli altri spettacoli e anche per conoscere la città. Quindi un avvicinamento al Festival che vivrà di qualche momento al teatro sperimentale con gli spettacoli del Festival Ragazzi e poi anche di un appuntamento cui teniamo tanto che è un workshop di scrittura ad opera guidato da Lucia Calamaro, una grandissima autrice teatrale che è amica del Festival che è stata nella giuria del premio Conti, nella seconda edizione del premio Conti e che in questi giorni è qua a Pesaro per seguire, per condurre questo workshop dedicato alla scrittura. Ricordiamo infatti che il Festival genericamente lo possiamo considerare una rassegna, una sequenza di spettacoli ma in realtà si compone di molto di più come ci ha appena detto Cristian. Però tornando al punto è opportuno sottolineare ancora una volta come l'associazione Amici della Prosa è riuscita a fare di necessità virtù in questo caso e dopo la grande paura diciamo sinceramente dovuta a tutto il discorso del Covid che ha minacciato addirittura di sospendere una tradizione 73, non so come si dice, perché ricordiamo che il Festival dei Gatti di Pesaro è una delle pochissime, forse l'unica manifestazione nazionale che si è tenuta ininterrottamente per 72 edizioni, questa è appunto la 73esima. Dopo questa minaccia in realtà poi quando si è capito che con gli opportuni adeguamenti e con tutte le opportune soluzioni si poteva comunque provare a immaginare di farlo, Cristian della Chiara e lo staff organizzativo ha deciso di rivoluzionare un po' la formula. La formula era spalmare le rappresentazioni nell'arco di più e più settimane, invece quest'anno la novità è importante. Sì, devo dire che è un'idea che ci frullava nella testa già un po' di tempo, anche stimolati dalle stesse compagnie che ci hanno sempre mostrato interesse a conoscere gli altri spettacoli e quindi a fare del Festival anche un'opportunità di conoscenza degli altri gruppi, conoscenza che noi abbiamo sempre in realtà favorito, proposto nelle giornate conclusive del Festival, alla premiazione invitiamo tutte le compagnie, quindi comunque c'era una giornata di condivisione. Così, con questa nuova formula, questa possibilità di condivisione si sviluppa su più giorni. Quindi, dicevo, è un'idea che abbiamo già da un po' di tempo che quest'anno si è potuta mettere in pratica, anche favoriti da un'esigenza organizzativa, perché ovviamente la sospensione dell'attività fa sì che poi i calendari ora tendano un po' a sovrapporsi e quindi è stato anche più semplice organizzare il Festival in questa maniera più compatta. Ricordiamo che poi quest'anno ci sarà un'edizione autunnale del Rossini Opera Festival, che terrà occupati i teatri per un periodo significativo. Poi ci sarà la ripartenza della stagione di prosa, approfitto anche per l'occasione per ringraziare anche il Comune di Pesaro e Amat, due partner fondamentali nell'organizzazione di questo Festival e Amat in particolare, della quale abbiamo appreso e diciamo alle quali ci siamo affidati anche per comprendere al meglio la gestione degli spazi teatrali. Ricordiamo che Amat e il Comune di Pesaro sono stati i primi a riaprire i teatri a giugno, quando dopo i lunghi mesi di chiusura totale si è potuto ricominciare a fare spettacolo dal vivo. Pesaro è stata la prima città, Amat è stata la prima che ha organizzato uno spettacolo, il 15 giugno a mezzanotte un minuto, quindi diciamo è un partner fondamentale per noi, per capire come gestire al meglio e nella totale sicurezza di pubblico e operatori, questa difficile ma direi anche entusiasmante avventura del ritorno a teatro autunnale. Per cui ricordiamo in dettaglio, allora, quante sono le commedie selezionate per la gara, diciamo per intenderci, e da che giorno e fino a che giorno andranno in scena? Hai ragione perché io sono sempre girato intorno, ma è arrivato il momento di arrivare al punto. Allora, il Teatro Rossini, sede del concorso e di due spettacoli fuori concorso, aprirà le porte del festival il 15 ottobre con lo spettacolo Il Tavolo Verde della compagnia Maschere di Opera Milano e concluderà questa avventura il 24 ottobre con Il Sogno di Domenica della compagnia Colpo di Maschera, quindi Maschera inizia e Maschera finisce, di Fasano Brindisi. Nel mezzo tutti i giorni spettacolo, otto in concorso, due fuori concorso, perché in questo anno così particolare abbiamo voluto fare altre cose particolari, quindi proprio perché ci saranno tante compagnie che da tutta Italia si fermeranno a Pesaro, abbiamo voluto offrire loro l'opportunità di conoscere non solo il territorio e la città, ma anche l'attività teatrale della città. Quindi ci sarà questa finestra Pesaro in cui verrà offerto ad alcune delle più significative, se non altro per tradizione, compagnie del nostro territorio, di mostrare i loro lavori, in questo caso fuori concorso. Quindi ospiteremo il Teatro Accademia con in realtà uno spettacolo che andrà nella sezione del GAD Festival Ragazzi allo Sperimentale, ma anche la compagnia del Teatro delle Ombre e la compagnia della Piccola Ribalta, quindi che saranno inserite in questa settimana del Teatro Rossini, precisamente lunedì 19 e martedì 20 ottobre, con Godot per quanto riguarda il Teatro delle Ombre e sette minuti consiglio di fabbrica per quanto riguarda la Piccola Ribalta. I telespettatori di Rossini TV più attenti avranno già riconosciuto nella compagnia che apre il Festival di quest'anno, la compagnia che hanno potuto apprezzare la settimana scorsa, perché la settimana scorsa per la prima puntata di Verso il Festival abbiamo proprio messo in onda la commedia TikTok nella quale loro hanno... Tok Tok! Tok Tok! Nella quale loro... Mi sono fatto fuorviare dalla celebre app cinese. e con la quale loro hanno vinto il premio del pubblico. Mi auguro che anche i nostri telespettatori abbiano apprezzato e questo può essere un ulteriore promo a invogliare, a partecipare al Festival. Si comincia bene, insomma. Si comincia bene con un'altra commedia divertente, questa volta è Il Tavolo Verde, è una commedia al femminile, sempre la stessa compagnia, non andiamo oltre perché si tratta di un concorso, quindi dobbiamo riconoscere a tutte le compagnie in concorso pari opportunità, però diciamo che è una coincidenza effettivamente di quello si tratta. Lasciamo la settimana scorsa separata dalla compagnia di Opera Milano e il Festival ripartirà con la stessa compagnia, con un lavoro ovviamente diverso. Nel fare la scelta delle quattro rappresentazioni da proporre ai telespettatori di Rossini TV, abbiamo, come già detto la settimana scorsa, adottato un criterio che non era quello a cui avevo inizialmente pensato, magari i premiati, quelli che avevano vinto un certo premio, no, abbiamo pensato di dare una panoramica più ampia possibile di quello che sono le proposte del Festival. Questo perché? Perché una rassegna deve includere quanta più varietà possibile, non solo per quanto riguarda il discorso delle compagnie e delle provenienze, ma anche per quanto riguarda il genere dei testi e dei copioni scelti e rappresentati. In questo io personalmente penso sta veramente il senso della rassegna, in questo sta il senso della fiducia nel selezionatore. Se nell'ambito di una rassegna, di una proposta, il telespettatore sceglie quello che sa già che gli piacerà, diciamo che non siamo proprio riusciti ad arrivare al punto, perché l'idea è proprio questa, cioè c'è una commissione selezionatrice, c'è qualcuno che poi realizza un calendario, mi fido di questo qualcuno e, se posso, vado a vedere tutto. Concordi con questa mia visione? Io non posso che sposarla in pieno, quando, e talvolta succede, ci viene riconosciuto questo, ovviamente abbiamo la sensazione di avere veramente fatto bene il nostro lavoro e di avere veramente colpito nel segno. Quando ci conquistiamo la fiducia del pubblico che rifugge dalla tentazione di appoggiarsi solo sul noto, sul conosciuto, e si affida a quello che non conosce, filtrato dal giudizio di qualcuno, in questo caso la commissione selezionatrice, che comunque gli fa da garante dire quello che verrà a vedere ti soddisferà. Ecco, quando questo piccolo miracolo si compie, ovviamente ne siamo molto soddisfatti. Quando qualcuno ci confessa che agisce e si muove in questo modo, ovviamente siamo colmi di soddisfazione. E questo devo dire che in un festival come il nostro è un passaggio inevitabile. Noi ci occupiamo di teatro non professionistico, quindi tendenzialmente non proponiamo volti noti, attori che abbiano una notorietà propria. Quindi l'unico mezzo per arrivare al nostro pubblico è talvolta fare leva, ma su testi conosciuti o su lavori magari più noti, ma spesso proprio sulla nostra tradizione, diciamo così, che fa un po' da bollino di qualità di quello che proponiamo. Anche perché, essendo il festival più antico, ma lo dico con orgoglio, non di certo per merito mio o nostro attuale, ma per la storia che il festival si è costruito, è il festival più importante che c'è in Italia, dedicato al teatro non professionistico, ce lo riconoscono tutti, lo diciamo con grande soddisfazione, ed essendo il più importante, è anche quello che raccoglie maggiore adesione e maggiori interessi. Quindi veramente al Festival di Pesaro si ha un quadro abbastanza chiaro di quello che offre il movimento. Ed è un movimento molto variegato, libero dai vincoli commerciali, che talvolta imbrigliano il mercato professionistico, è un teatro che sa anche osare, sa anche fare scelte non facili, e quindi chi si fide, affide, soprattutto a una curiosità verso il teatro, che non è limitata solo al noto, sicuramente può trovare delle grandi soddisfazioni nel nostro festival. Di intuito, ascoltandoti, mi verrebbe da dire che questo funziona anche da pungolo, da stimolo nei confronti delle compagnie. Per una compagnia che magari si appoggia alla tradizione, sarebbe troppo facile e quasi spontaneo proporre sempre la stessa impostazione, ma sa già che se propone tutti gli anni il classicone al festival dei GAD, non verrà per forza di cose accettato a tutti gli anni, anche se dovesse fare chissà quale tipo di performance. Perché? Perché chiaramente il festival ha bisogno anche di altro. Sì, è vero che il primo metro di giudizio che ci diamo in commissione è quello della qualità, quindi tendenzialmente le varie fasi della selezione fanno leva appunto sulla qualità, gli spettacoli che secondo il nostro giudizio sono i più belli. Quando però arriviamo a una rosa ristretta, diciamo 20-25 spettacoli, dobbiamo fare la scelta finale di 10, entrano in gioco anche altre dinamiche, che sono quelle di costruire un cartellone che sia anche variegato, che possa accontentare tutti i gusti, ma anche premiare chi ha voglia di osare. Quindi a parità di qualità, chi ha voglia di osare, chi ha voglia di proporre qualche cosa che ci stupisce per la scelta del testo, per la modalità di rappresentazione, certamente talvolta viene premiato perché ci piace anche sperimentare cose nuove. In fondo il cartellone è una playlist, è un palinsesto, per cui come tale deve essere per forza di cose vario, soprattutto in un anno come questo, nel quale l'obiettivo è quello di far venire gente a teatro tutte le sere. Esattamente, quindi ogni sera può vedere qualcosa di diverso, e contiamo anche così di soddisfare quella voglia, quel bisogno di persone che hanno dovuto fare a meno del teatro, almeno dal vivo, per tanto tempo, quindi che magari saranno contenti anche di vederlo tutti i giorni. Aggiungo anche che una parte importante del nostro seguito è data dagli abbonati, e quindi abbiamo pensato anche a chi, pur volendoci seguire, fa difficoltà a venire tutti i giorni, e quindi anche forme di abbonamento più light, che consentono di abbonarci a un numero inferiore di spettacoli, quindi mantenere il vantaggio economico di avere l'accesso a prezzi scontati, però senza doversi vincolare a tutte e dieci le serate, ma a un numero ridotto. Quindi abbiamo cercato veramente di sperimentare il nuovo, senza dimenticarci di esigenze di chi ci ha sempre seguito su formule più vecchie, diciamo così. Parliamo della commedia che proponiamo questa sera? Parliamo dello spettacolo di questa sera, uno spettacolo in cui sono particolarmente legato, uno spettacolo che abbiamo portato in cartellone nel 2016 alla 69esima edizione del Festival, si chiama Oscar e la dama in rosa. Sono molto legato a questo spettacolo per diversi motivi. Parto dalla fine e non è uno di questi motivi, però mi è venuta in mente un'altra coincidenza, veramente di coincidenza si tratta, ma anche questo spettacolo ha per protagonista una persona che troveremo protagonista anche quest'anno al Festival, nello spettacolo fuori concorso presentato nella rassegna GAD Festival ragazzi, quindi avremo un malato immaginario per la regia di questa attrice straordinaria che vinse il premio come miglior attrice con questo spettacolo del 2016. Lo spettacolo è Oscar e la dama in rosa. Sono molto legato a questo spettacolo, un testo di Eric Emanuel Schmidt, quell'anno tra l'altro fra le varie particolarità ricordo anche che avevamo in cartellone due spettacoli dello stesso autore, cosa che non era credo mai successa prima, avevamo anche il visitatore sempre di Eric Emanuel Schmidt, uno spettacolo sulla vita, sulla biografia di Freud. Ma torniamo al punto, sono particolarmente legato a questo spettacolo perché credo, almeno in un'epoca recente, che fu la prima volta che al Festival ci fu un monologo in concorso. Tradizionalmente al Festival si privilegiavano spettacoli collettivi, diciamo così, io un po' la rivendico nella mia direzione artistica questa apertura ogni anno sul regolamento cercavo di limare, togliere qualche vincolo sulla durata, su varie cose che nel passato forse avevano senso e che ritenevo che poi potessero essere superate. Quella del monologo era una di queste e fu una scelta vincente perché lo spettacolo rientrò nella terna del migliore spettacolo, arrivò secondo se non sbaglio, l'attrice vinse il premio come migliore attrice ed è uno spettacolo meraviglioso, ma molto, molto duro. La settimana scorsa avvertimo il pubblico sull'uso delle parolacce, ma era uno spettacolo molto divertente, in questo caso non ci sono parolacce, ma è uno spettacolo molto duro, molto commovente, tratta della vicenda di un bambino, un bambino malato, un malato grave, un malato terminale, che si inventa, aiutato dall'infermiera che segue queste sue fasi della vita, si inventa un modo per poter affrontare questa sua malattia cercando di vivere con questo gioco che fa con questa sua infermiera appunto, di vivere una vita che probabilmente la sorte gli negherà a causa appunto della malattia, quindi un gioco per poter vivere tutte le fasi della vita, quindi diventare adulti, poi anche anziano, in una condizione invece che reale purtroppo lo obbliga ad altro. Non dico come va a finire, ma ahimè lo si può lo si può immaginare, però se ci si prepara a vedere uno spettacolo comunque duro, si sarà completamente appagati, perché è una storia molto emozionante, molto commovente, ma molto molto bella e interpretata in una maniera meravigliosa da questa attrice. Bene, allora non ci resta che assistere a questa rappresentazione, voglio ricordare che questa operazione che stiamo facendo con Rossini TV di avvicinamento al festival è proprio un avvicinamento, non vi dovete accontentare, guardate e seguite le nostre puntate, seguite le rappresentazioni che vengono proposte, ma non dimenticate che niente rende come essere in sala e assistere dal vivo alla vera e propria rappresentazione. Questo è l'obiettivo di queste puntate e questo è l'obiettivo delle due tappe che oggi si conclude, di cui oggi si conclude la seconda, ma anche delle prossime due, per cui l'appuntamento è alla prossima tappa. Arrivederci. Grazie a tutti.